E' cassata senza rinvio all'ordinanza che concede alla proroga del trattenimento della ricorrente straniera. Se l'efficacia dell'espulsione è stata sospesa, quell'espulsione non può costituire la base per un provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero. Quel provvedimento del questore o la richiesta di prorogarlo non possono mai autorizzare un trattenimento temporaneo, in quanto detto trattenimento ha lo scopo di accertare l'identità dello straniero o di consentire una sua temporanea protezione o il reperimento dei mezzi di trasporto per eseguire una espulsione. Grazie a tutti.